Grazie Presidente, signor Ministro l'abbiamo ascoltata bene e in parte abbiamo anche apprezzato alcuni suoi passaggi. Ci sarebbe piaciuto però sentir parlare del ruolo della Turchia e lei non ne ha parlato perché pensiamo che sia un attore molto importante in quello scenario. Ci sarebbe piaciuto sentir parlare del ruolo dei kurdi, altrettanto importanti in quello scenario in cui non sono tanto gli stati nazionali quanto le etnie, quanto tutto quello che ne consegue. Ci sarebbe piaciuto sentirle parlare del ruolo dell'Europa. Lei dell'Europa ha parlato solamente alla fine quando parlava della ricostruzione. Ancora una volta, e lo diciamo noi che siamo tacciati di essere i cattivoni che la vogliono distruggere a questa Europa, ancora una volta, questa è la dimostrazione, lo dirò anche alla fine, che l'Europa a livello internazionale praticamente non conta nulla. Lei ha parlato del ruolo della Russia, ha parlato del fortissimo ruolo degli Stati Uniti, ha parlato dell'Italia come se l'Italia fosse il punto centrale di tutta questa situazione. Io l'ho vista molto più preso, signor Ministro, a trattare il caso Torrisi anziché a trattare il caso Siria. Però forse era più preso a parare i missili che arrivavano non dagli Stati Uniti ma arrivavano dal Partito Democratico. Però va bene così. Il suo doppio ruolo impone di avere due visioni, una sul locale, quindi proprio sul nazionale, quindi sul Senato e l'altro a livello internazionale ha preferito, a nostro parere, seguire quelle che sono state le vicende del Senato della Repubblica Italiana. Le circostanze in cui la scorsa settimana un'azione di combattimento nei confronti di iblidi si è conclusa con la morte decine di civili, tra cui molti bambini, causata dall'esalazione di un gas benefico, sono tutt'oggi una controversia. Come già accaduto altre volte in altri conflitti, esistono ormai una verità politica e gli effetti che questo ha prodotto, determinando in particolare la scelta degli Stati Uniti di utilizzare per la prima volta contro il governo di Assad la forza militare di cui dispongono. Per quanto si sia trattato di un'azione calibrata e circoscritta, nella quale si è cercato di ridurre al minimo le vittime ed evitare del tutto quelle russe, non vi è dubbio che si sia registrato un cambio di passo rispetto a quello che avevamo visto precedentemente. Un cambio di passo, Presidente, che per noi è fonte di preoccupazione, perché come molti altri osservatori pensavamo da qualche tempo che la nuova amministrazione americana sarebbe stata meno propensa a ricorrere alle armi di quella uscita di scena. E se vi ricordate quella appena uscita di scena del signor Obama è quella che aveva avuto anche il Nobel per la pace. Prendi il Nobel per la pace e poi fai la guerra in giro per il mondo. Comprendiamo naturalmente la logica dei rapporti di potenza e l'idea che ha probabilmente ispirato la scelta del Presidente statunitense. Sinceramente colpito dalla violenza delle immagini e comunque alle prese con una campagna mediatica che lo ha dipinto come una specie di ascaro del Cremlino. Siamo tuttavia, Presidente, turbati dagli sviluppi che questo passaggio potrebbe implicare e altresì per il modo in cui vi si è giunti. Un ampio cartello di forze politiche al quale appartiene anche parte del Partito Repubblicano ha mal digerito la vittoria di Trump e non cessa di ostacolarlo ogni giorno che passa. Il Presidente, sotto gli occhi di tutti, non è neanche riuscito a completare la propria squadra che già un'ondata senza precedenti di scandali, livelazioni vere o presunte, minacce e ricatti l'ho obbligato alle prime sostituzioni. Noi temiamo che un'elezione storica per l'America e per il mondo possa essere tradita e preparare un futuro molto meno stabile di quello che si profilava. E questo non per volontà del Presidente statunitense, ma piuttosto a causa dei suoi avversari che non si rassegnano. Anche in Italia li vediamo che non si rassegnano. Solo il tempo ci dirà se quanto è accaduto in Siria con il lancio dei missili della scorsa settimana sia servito o meno solo a preparare il terreno a una trattativa che possa dischiudere la porta a un nuovo equilibrio. È quello che si augura la Lega Nord. Ma già vediamo cose che sconcertano. Abbiamo registrato la riemersione nella narrativa americana dei cosiddetti ribelli moderati che pensavamo di aver seppellito con la fine della Presidenza Obama. Sentiamo poi nuovamente parlare di progetti di regime change, di cambiamenti di governo che ci fanno tremare perché evocano il ricordo dei numerosi disastri degli ultimi vent'anni Afghanistan, Iraq, Libia. Consideriamo inoltre con molta preoccupazione l'eventualità che la Russia possa essere messa ancora una volta con le spalle al muro. Non sappiamo cosa sia davvero successo, dove sono stati impiegati i gas, ma riteniamo che occorre evitare di infliggere alla Russia e a Putin una punizione troppo severa con l'isolamento. Lo dobbiamo non tanto ai russi quanto a noi stessi, perché non sappiamo chi sostituirebbe al Cremlino l'attuale Presidente russo e perché siamo invece sicuri che una Russia nel caos diventerebbe davvero un grave fattore di rischio. Per una volta, almeno per una volta, apprezziamo il fatto che il nostro Paese inizi finalmente, e lo sottolineo a sostenere, la necessità di non isolare Mosca e troviamo positivo che il G7, a livello di Ministri degli Esteri appena conclusi, abbia respinto l'idea di sanzionare la Federazione russa. Però, signor Ministro, speriamo che questa non sia solamente un'operazione di facciata, perché noi l'abbiamo visto in più di un'occasione, ci ricordiamo durante il governo precedente il Premier Renzi che da un lato andava a trovare Putin e dall'altro lato sosteneva le sanzioni alla Russia. E quindi chiediamo a questo Governo di seguire l'esempio del Presidente della Repubblica, Mattarella, che in modo serio è andato a parlare da Putin e in modo serio ha parlato con la Russia. Speriamo, e lo speriamo, che questo Governo non faccia ancora una volta quello che ha fatto in precedenza. Un Governo di pavidi, di persone che sui giornali dicevano una cosa e poi nei fatti ne dicevano un'altra. Le ripeto, signor Ministro, forse la signora Mogherini non è, a nostro parere, in grado di rappresentare l'Europa. Forse questa Europa non è in grado di avere una politica estera. Sicuramente la devono avere gli Stati. Se voi credete, voi credete che questa Europa possa avere una soluzione e possa presentare qualcosa di positivo per questa situazione, cercate di fare tutto il possibile. Noi siamo dalla parte di chi vuole la pace e non siamo dalla parte di chi lancia le bombe. Grazie. Grazie. Grazie.